Ex Yokohama di Ortona, oggi Alfagom, azienda che produce tubi sottomarini per le condotte petrolifere. L'acquisizione fatta dal marchio Brianzolo è avvenuta alla fine del 2020. All'epoca fu la scelta migliore e venne appoggiata dai sindacati anche perché nel nuovo piano industriale venivano previsti alcuni punti importanti. Un sensibile incremento dell'occupazione, il rientro di quei lavoratori che erano stati smistati negli stabilimenti Terramani di Sant'Atto e Castelnuovo e la stabilizzazione entro un anno di chi aveva un contratto a tempo determinato. Ad oggi niente di tutto questo, come hanno denunciato i sindacati di categoria in un documento congiunto. Sulla situazione sentiamo Carlo Petaccia della Filctem CGL. Petaccia, perché siete preoccupati? Siamo preoccupati perché oggi siamo quasi a due anni dell'accordo siglato in Regione e purtroppo dobbiamo rivendicare il fatto che l'azienda non sta rispettando gli accordi presi. In particolare quali sono questi accordi non mantenuti da parte della nuova azienda? La stabilizzazione dei lavoratori richiamati, una parte non sono richiamati, una buona parte ancora vengono chiamati nel rientro e poi ci sono anche lavoratori che sono stati chiamati per un periodo di due o tre mesi e sono riusciti. Quindi diciamo ci sta dentro tutto, ma la cosa più grave che noi facemmo insieme alla comunità ortonese, facemmo quella scelta perché l'azienda aveva dichiarato apertamente del piano industriale che addirittura andava oltre i numeri previsti dell'ex Ocoamo, 153 persone con due start-up che poi devono essere utili. Di questo non stiamo vedendo nulla. Attualmente sono un'ottantina le persone che dovrebbero, anzi dovevano già rientrare a Tortona. Sì, e questi numeri dovevano essere esauditi entro l'anno. chiaro? E quindi oggi che stiamo a settembre 2022, partendo da dicembre ma per essere corretto gennaio 2021, stiamo meno della metà e non sappiamo qual è il futuro perché non ci dicono chiaramente che cosa succederà. Hanno fatto della lavorazione dell'oil del tubo che già facevano. Le altre due start-up non sappiamo nulla se partiranno o non partiranno e ovviamente le preoccupazioni, forte da parte sindacale ma più che altra da parte lavoratori, non sanno, compreso chi sta dentro, non sanno se questa avventura a cosa ci porterà. Nel documento è stato sollecitato anche un accorato appello alle istituzioni affinché facciano la loro parte e la Regione, proprio in tarda mattinata, ha scritto ai sindacati programmando un tavolo istituzionale per il 12 settembre.